Moda e motori, eleganza e sportività, etichetta negra presenta la nuova collaborazione come fornitore degli eventi sportivi di Audi. Ancora a Milano, in mostra le lancette degli orologi F-Journe, François Paul Journe parla dello sviluppo dei nuovi modelli e delle novità della collezione donna. Questo evento è organizzato con Audi per consolidare un po' l'amicizia e il connubio che abbiamo con loro con il circuito delle R8 e con il trofeo nuvolari che abbiamo appena concluso. A livello sportivo noi indirettamente sponsorizziamo la squadra dell'Irnestrina di Polo e poi sponsorizziamo anche la Brescia Corsi, il team delle macchine d'epoca della Brescia Corsi. Quest'anno quando mi è stato annunciato da Audi Italia che etichetta negra sarebbe stato il nostro fornitore ufficiale, sono stato non contento di più perché è sicuramente un marchio nuovo, un brand nuovo, dinamico, che segue tantissimo la filosofia nostra delle competizioni per cui un marchio che secondo me sposa la grande, il marchio Audi che è non solo sportività ma anche eleganza. Io mi occupo di la creazione e mi fabbriamo anche i prototipi. Adesso, quando la montra è stabilizzata, ci sono mes horlogers che lavorano sui. L'imagine a poco come la montra va esistere. La prima cosa che faccio è che scrivere il cadran. Perché la persona che guarda una montra, la maggior parte, non conosce nulla al movimento, non comprena molto la macchina. La prima cosa che vedo è il cadran. Quindi, la parte esthétique maggiore in prima. E poi, il movimento che anima questo cadran. La prima carattere è che è in centro-vile, ci non è più, in centro-vile di Genève. In centro-vile di Genève, noi fabriquiamo le montra di A a Z, con la fabbricazione dei composanti, l'assemblaggio. L'assemblaggio è fatto per un horloger per ogni montra. E poi, la particolarità di noi montra, c'è che, d'abord, è marato Invenite e Fessite. C'è il latino, c'è il latino, c'è il latino, c'è l'Italia. E l'Invenite, parfois, dure un anno o due, ma il Fessite può durare 3, 4, 5 anni. Perché il Fessite è più difficile di fabriquere, di realizzare, che di avere una idea. L'idea è abbastanza facile. Quando l'on l'a. In le montra, il movimento è in or. Perché noi ne fabriquiamo che dei montra che con un boitier in platine o in or, e quindi il movimento è sempre in or. Il fessere una collezione per le bambino per la fine dell'anno prossima. C'è la cosa più importante che noi facciamo, che noi facciamo, che noi facciamo attualmente. Sinon, il faut guardare le bambino che sono già sviluppato, che sono nelle vitrine, Il y a, notamment, il Santigrafe, che deve essere caro al cuore dei Italiens, puisque c'è un cronografe che mesura il centième de seconde, e dont Jean Todd, l'ex patron de Ferrari e le parrain. Donc, c'è veramente la connotation italienne. Mazze d'Apolo, selle, ma anche dettagli in argento e richiami all'aristocrazia inglese. E' questo il DNA del brand La Martina, che ha aperto un nuovo negozio nel cuore modaiolo di Milano. E poi, sempre nel quadrilatero della moda meneghino, arriva la vodka Grey Goose, tra le più amate dei divi di Hollywood, una nuova boutique in Diamonte-Napoleone, dove si possono gustare anche le specialità tutte francesi di La Dorée. Questo store rappresenta sostanzialmente tutto il mondo della Martina. Ci sono alcuni elementi, come le mazze d'Apolo, le selle, che riconducono direttamente a quello che è il DNA del marchio. E ci sono poi altri elementi, legati più all'arredo o ad alcuni dettagli nelle argenterie, che invece riportano quello che è il mondo di ispirazione della Martina, che è quello dell'aristocrazia inglese, fondamentalmente. I colori e i materiali si differenziano dallo store che avete aperto recentemente a Roma? Sì, mentre il negozio di Roma è tutto giocato sui toni dell'avorio e dell'oro, qui prevale il nero, evidentemente, con alcuni dettagli argento, proprio perché una delle caratteristiche della marca è quella di sapersi adattare al gusto e al mondo in cui viene inserita, al contesto in cui si trova. Per cui, fondamentalmente, Milano è la moda. La moda è nel nero uno dei suoi colori di punta, di riferimento, e quindi lo store è nero. Da quanto tempo la Compagnia delle Pelli produce e distribuisce la Martina? La collaborazione è iniziata nel corso del 2007 con la licenza di pelletteria, che nel 2009, poi, e sul mercato è arrivata nel 2010, ha portato anche la licenza di abbigliamento. La distribuzione copre tutto il mercato europeo e del Medio Oriente. E in termini di fatturato, come pensate di chiudere il 2010? È stato un anno per noi comunque molto positivo e siamo attorno ai 72 milioni di euro. Una boutique della vodka in Monte Napoleone. Come nasce questo progetto? Eh, nasce da un progetto, diciamo, innovativo. Siamo, penso, la prima azienda, il primo marchio che portiamo nel cuore della moda di Milano, nella cuore della moda mondiale. È un prodotto di grande fascino, che è il grande successo mondiale della vodka, a livello mondiale, lo stiamo portando anche qui in Italia, che è già conosciuto, ma è stata un'idea di dire perché non farlo. E siamo stati i primi, direi che è molto bello. Ecco, ci puoi descrivere un po' le modalità del progetto e anche la collaborazione con la Duree? Grey Goose è un prodotto che nasce in Francia, è un prodotto del gruppo Bacardi Martini e che già da cinque anni distribuiamo in Italia. L'idea è comunque, rappresenta proprio questa sua francesità e questa connotazione. Duree è un prodotto che, per una tipologia di consumo, diciamo, sempre di un certo tipo, ma del mangiare e del buon bere, si abbina molto bene a queste immagini francesi, anche lo stile del negozio rappresenta un po' questa qualità. E quindi questa combinazione dà sì in modo di poter fare un qualcosa di diverso, ma di elegante e di bello anche in questa via di Milano che è eccezionata. In termini di fatturato, che peso ha Grey Goose in Bacardi Martini? Beh, a livello mondiale è enorme, perché nel senso che è un fenomeno che è partito circa 7-8 anni fa negli Stati Uniti e è diventato proprio un che esistere, è la vodka premium più consumata, è diventata un'icona. Sta arrivando molto pesantemente, diciamo, come moda anche in Europa. In Italia siamo entrati 5 anni fa, siamo presenti soltanto in un certo tipo di locali, ancora non siamo nella distribuzione moderna e col passaparola, proprio con gli intenditori, con la qualità e con un certo tipo di comunicazione molto mirata, sta arrivando a essere apprezzata dai consumatori di un certo tipo. Ciao! 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 Grazie a tutti.